Grazie a tutti 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 Cambio Grazie a tutti Perdiamo Grazie a tutti Grazie a tutti Ma... Grazie a tutti Cambio caricatore Grazie a tutti 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 Dio Grazie a tutti 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 Vabbè Grazie a tutti 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 Ma perché Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Uab Grazie a tutti What the fuck Grazie a tutti 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 Tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Siamo su Madonna Grazie a tutti Ma che Grazie a tutti Grazie a tutti Sto Grazie a tutti Potevo vede Grazie a tutti Grazie a tutti Bellissimo Grazie a tutti Ah no Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Una partita Grazie a tutti 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 E niente ma che cazzo l'ha visto ti ho porto ti ho porto il nemico prende alfa il nemico ha due obiettivi il nemico ha tutti gli obiettivi voglio essere rendiamo charlie siamo sull'obiettivo bravo a me a me a sparare ma dove è camperato sto coglione siamo sull'obiettivo charlie stiamo prendendo bravo stiamo sull'obiettivo obiettivo bravo al sicuro buon via alleato online il nemico ha catturato due obiettivi prendeteli il nemico cattura bravo prendiamo alfa ooooh oavi nemico a team missile cruz alleato in avvicinamento prendiamo charlie vabbè affanculo vabbè affanculo vabbè affanculo ma basta ma puoi spunare ti ho con un salto ti spara ma che cazzo è prendiamo alfa ma vabbè affanculo ma 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 Mmmmm